ok partito dai fai un batti un servizio si la pastiglia addirittura la borsa qua pensa un po ok ok il 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 Io sono un ragazzo. 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 Un ragazzo. Un ragazzo. Un ragazzo. Ok. Un ragazzo. 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 Sì, c'è qualcosa che stai facendo. Ehi, grazie! Ah! è che io e poi ci convinta e tu non sei per chi non è per vedere che lo scalcio e che se no sono il campione sai sai come cazzo va bene non mi vede tutti i giorni guarda no, no guarda lì 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 bravo Ah. Well done. Well done. No, no, no. No, 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 no. Ok, no. No, no, no. come on ah get off and hit get off hit and get off Alright, let's see Now, let's take a little a little bit do you have to listen to the left? c'è una palla 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 c'è Kai c'è una palla c'è una palla Grazie. 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 No, 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 quello va sempre. Lo sfengo perché... Perché devo prendere... Cambiavi prospettiva, no? Da dietro, magari da in fondo. Metti il cestino lì. Quando ha fatto? 13 minuti.